Progetto di videoserveglianza della comunità montana, a che punto siamo? Direi a me siamo alle battute finali, il definitivo è stato per l'ennesima volta quindi definitivamente presentato ai sindaci dei 38 comuni interessati dopodiché ci sarà la parte esecutiva settimana prossima che verrà presentata ai carabinieri per l'ultimo place dopodiché si andrà definitivamente sul tavolo della sicurezza e quindi l'appalto, per cui penso che nell'arco di un mese, un mese e mezzo salvo imprevisti potremmo appaltare definitivamente questa cintura che per la prima volta avrà il potere e la forza di garantire almeno l'inaccessibilità di molti malviventi alla nostra grande valle seriana. Quali sono gli ultimi problemi da risolvere? Abbiamo risolto alcune situazioni di posizione che non solo per esigenze proprio meramente di campanilismo ma erano questioni tecniche perché lo spostare a alcuni pali comportavano sicuramente dei risparmi non indifferenti dove c'era già postazione sia di luce che pali questo consentiva e visibilità visto che si tratta anche di trasferimenti segnali. Poi abbiamo la fortuna di avere due comandi che sono disponibili anche alla gestione che sono stati ampiamente detti, comando per quanto riguarda l'Alta Valle con Clusone, Nembro, l'unione dei comuni quindi anche dei vigili della bassa, poi c'è un'ipotesi anche della Croce Blu che potrebbe essere sul servizio notturno da valutare e poi anche, perché no, anche la Setco che potrebbe essere uno degli altri gestori. Quindi di grandi problemi non ne vedo, vedo semplicemente la voglia da parte di tutti come è emerso dai signori sindaci la volontà di chiudere questa nostra proposta iniziata esattamente un anno e mezzo fa e abbiamo avuto la forza, la capacità da parte di tutti la credibilità di portare da 180 come era inizialmente il progetto, 480 che è comprensivo di ulteriori telecamere quindi abbiamo inglobato anche il sistema attraverso un accordo ben preciso ad alto piano sia anche selvino aviatico per cui ci sono oltre a queste telecamere a supporto quindi un centinaio di telecamere in totale ma anche tre anni di manutenzione, di licenze e quindi di controlli e ben sapete che il materiale tecnologico avanzato di questa struttura comporta sicuramente una manutenzione non indifferente e se si perde la manutenzione sono soldi veramente sprecati Allo scadere dei tre anni poi la manutenzione sarà a carico di chi? Beh sicuramente in teoria dovrebbe tornare a carico dei comuni ma mi auguro che la comunità montana continua a esistere perché secondo me la comunità montana è un motore di crescita, di sviluppo per quanto riguarda tutta la valle ed è giusto che la comunità montana si faccia e possa farsi carico anche di questa manutenzione per gli anni a venire Quindi grosso modo potremmo vedere le prime telecamere e quando? Sicuramente per settembre penso che si possa vedere i primi risultati con le prime multe e la cosa veramente ci farebbe molto piacere